Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti. Grazie Presidente, Sindaco, Signori Consiglieri, Di Stefano Roberto, Fiorino Giovanni, Aiosa Alessandra, Attanasio Tullio, Bonomelli Mosè Walter, Carpani Emilio Francesco, Chito Monica Luigia, Cozza Marco Francesco, Assette, Di Cristo Vincenzo, Galante Loris, Ghezzi Gabriele, Grazie, Floridi Chiara, Leo Umberto Antonio, Molteni Mario, Pagani Maria Luigia, Pasquinelli Rossano, Pastorino Loredana Lucia. Stai entrando in questo momento. Qualche secondo, è in aula. Consigliera, buonasera, presente, Pastorino Loredana Lucia, bene. Perigo Roberta, presente, a distanza, vista, e quindi remoto, presente, Roberta Perigo, si faccia sentire però, eh. Mi sente, segretario? Non mi sente. Si viene a fare proprio da attivare il microfono. No, è corretto Roberta, è corretto, tu sei a posto. No, no, ho messo al contrario il coso, aspetta. Ah, ma io ti sentivo, eh. Sentiamo adesso, sì. Ah, è, va bene. Adesso mi sentite? Certo. Mi senti poco. Allora, Pogliaghi Federico, Ricupero Vincenzo, Rosa Vittoria, Scarangella Rosaria, Valsecchi Sergio, Vincelli Gian Maria Paolo e Vino Paolo Assessori presenti. Allora, D'Amico Claudio Assessori presenti. La Miranda Antonio, l'ho sulla sinistra. L'Anzoni Marco Fa sentire la sua presenza. Presente, presente. Non la sentire a moto. Sono presente in remoto. Bene. Magro Alessandra, Pizzocchera Roberta e Toresani Maurizio. Bene. Allora, le do il numero dei presenti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove e venti. Allora, sono venti presenti. rifaccio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Galante Loris non è presente. Ok, perdone, è presente. E quindi, ok. Venti. Allora, abbiamo la presenza di venti consiglieri. Forse ne sta entrando uno. Consigliere Vino. Bene. Allora, sono ventuno. Consigliere Vino Paolo, giusto? Bene. Presente, allora. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, sono ventuno presenti, il numero legale c'è, la parola al presidente. Grazie, signor segretario. Ci alziamo tutti in piedi per ascoltare l'inno nazionale. e, a, 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 a Grazie. 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 Va bene. Avrei preferito un unico nazionale un po' più a volume alto, ma purtroppo è andata così. Nominiamo i tre scrutatori, Rosa Vittoria, Carpani Emilio, consigliera Pagani non c'è, signora Chittò, come scrutatice, grazie, quindi gli scrutatori, Carpani, Vittoria e Chittò. Allora, prima di iniziare con la lettura degli ordini del giorno, la consigliera Floridi mi ha chiesto proprio un minuto per comunicare, per dire due parole. Io ho accettato molto volentieri, tenendo presente che questa cosa viene fatta anche perché lei mi ha segnalato che era una persona che si dava molto sul volontariato territoriale. Quindi a lei la parola, prego. Grazie mille, Presidente. Buonasera a tutti. Come forse già alcuni di voi sanno, a inizio gennaio è venuto a mancare Marco Rota. Marco è stato un membro attivo e davvero fondamentale nella lista di cui faccio parte, se sto al primo posto, ma non solo. Marco è stato una persona molto attiva e appassionata di quella che è la vita della nostra città e in particolar modo ha speso molto del suo tempo, molta della sua passione, molte delle sue energie nel volontariato e in particolar modo nel GGG, nel gruppo genitori della giocheria. Volevo appunto ricordarlo brevemente con due parole perché Marco era una persona sempre molto positiva, molto allegra, molto gioiosa. Era sempre una persona pronta, con la battuta pronta, sempre disponibile per gli altri e davvero una persona con cui era molto facile stare in compagnia e trovarsi bene. E appunto perché molta della sua passione, molte delle sue energie le ha spese appunto per la nostra città, mi sembrava doveroso ricordarlo questa sera. Non voglio ricordarlo con tristezza, lo voglio ricordare davvero per il bellissimo ricordo che lui ha lasciato, non solo nella mia vita, ma nella vita di tutte le persone che ha incontrato. E che è un po' insomma quello che succede quando ci lasciano le brave persone. Ecco, questo è il ricordo per Marco. Penso che il minimo che possiamo fare è alzarsi tutti in piedi. Grazie a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale con una comunicazione ai consiglieri comunali a senso dell'articolo 166,2 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 118 del 2011 della delibera di Giunta Consiglio ad oggetto delibera di Giunta numero 330 del 28-12-2020 bilancio di revisione 2020-2022 tredicesimo prelevamento dal fondo di riserve di cassa per l'esercizio 2020 edeguamento del PEG 2020-2022 passiamo alla prima delibera di Consiglio Comunale la delibera al punto 1 è l'individuazione edifici e aree di esclusione del territorio comunale dall'implicazione della comma 5 e 5 ter dell'articolo 11 della legge regionale dell'11 marzo 2005 numero 12 legge per il governo del territorio in applicazione di comma 5 ter e 5 quater del medesimo articolo 11 do la parola all'assessore e la Miranda prego assessore grazie presidente buonasera a tutti seduta dedicata principalmente a interventi in materia di edilizia e di urbanistica questa prima proposta di delibera prende le mosse da una delibera della Giunta regionale del 5 agosto 2020 che approva dei criteri volti alla implementazione di edificabilità quindi premialità da questo punto di vista in forza di una riqualificazione nell'ambito della città costruita di edifici dismessi l'impianto normativo regionale prevede la possibilità di applicazione su tutto il territorio comunale salvo come esplicitamente esplicitamente indicato nell'impianto normativo per i comuni facoltà di andare a limitare o individuare gli edifici che possono beneficiare di questi aumenti volumetrici nell'impianto nell'impianto occorre ricordare fare menzione nella proposta delibera della già vigente delibera di consiglio comunale di luglio 2020 dove abbiamo individuato gli edifici caratteristici del territorio comunale già vincolati a recupero edilizio per i prossimi anni che potrebbero godere del beneficio premiale dal rigenerazione con però la clausola dell'aggravante che se entro questo termine non beneficeranno o non verranno trasformati decadranno sia dall'aumento volumetrico ma soprattutto saranno destinatari di un'ordinanza di demolizione dell'edificio prendendo le mosse da questa posizione già assunta dall'amministrazione di governo e gestione del territorio attraverso l'individuazione di edifici specifici da governare l'amministrazione forte anche della iter amministrativo in corso che ormai sta volgendo alla chiusura nei prossimi mesi incardineremo formalmente la procedura e quindi verrete materialmente coinvolti come consiglieri nell'ultimo percorso deliberativo della variante di PGT quindi stavo dicendo l'amministrazione tenendo conto sia di questo impianto normativo che è stato deliberato dalla regione che dalla precedente delibera di consiglio comunale che già ha individuato esattamente quali sono gli edifici che nell'arco di breve tempo vogliamo andare a recuperare o meglio chiediamo ovviamente ai soggetti proprietari di fare qualcosa su questi edifici bene appunto la clava della demolizione andiamo a limitare come data da facoltà dall'impianto normativo l'applicazione di questo indice premiale sul territorio non disapplicandolo perché la legge consente non solo l'applicazione su tutto il territorio consente l'individuazione anche di soli edifici che potrebbero beneficiare di questa implementazione come prevede anche la facoltà per le amministrazioni di andare totalmente a disapplicare questa norma come si arriva però a prego presidente mi scusi un attimo assessore lanzoni per cortesia se si rende visibile e lo so però è una legge è una regola assessore lanzoni si deve rendere visibile grazie prego presidente stavo dicendo quindi l'amministrazione in base a questo impianto è tenuto conto delle indicazioni che sono già in itineri per la variante di pgt ne ho fatto menzione già in commissione le ricordo stasera a beneficio di tutti i partecipanti nelle nuove norme che andiamo a andremo a proporre al consiglio comunale di approvare della variante del pgt sono previste tre norme specifiche che consentiranno degli aumenti volumetrici ma non generali o generalisti ma saranno molto specifici indirezzati e andranno oltre la soglia già prevista dalla legge regionale dell'aumento volumetrico del 20 per cento addirittura noi daremo un aumento volumetrico del 30 per cento massimo tra queste varie voci che si declinano rientra anche una delle voci che è il pilastro di questo impianto normativo cioè la demolizione e ricostruzione ovviamente di edifici dismessi, patiscenti o da recuperare ovviamente che noi a differenza dell'impianto normativo proposto dalla regione non concediamo il 20 per cento ma concediamo solo un 10 per cento per questa specifica voce e che questa voce si può accumulare con altri tipi di voci che abbiamo previsto quale un'implementazione del 10 per cento se uno fa edilizia convenzionata un'implementazione del 10 per cento se va a fare recuperi energetici fino ad arrivare addirittura col doppio salto di classe a un aumento volumetrico del 20 per cento quindi poniamo molta attenzione non solo sul recupero del patrimonio ma anche sulla valorizzazione e soprattutto il contenimento del consumo di suolo e bassi consumi dei nuovi edifici che si vanno ad autorizzare in questo impianto quindi la proposta dell'amministrazione va nella direzione di dire siccome stiamo già noi governando il nostro territorio con questa nuova proposta di governo siccome siamo un'entità territoriale vasta con una struttura amministrativa, area tecnica in grado di gestire da sola già questi interventi di miglioramento e di efficientamento di tutto il tessuto urbano questa norma riteniamo che vada in parte appunto a eccessivamente limitare la nostra capacità da questo punto di vista di governo sostanziale del territorio e quindi ci diciamo grazie a regione ma continuiamo a governare noi da questo punto di vista l'impianto complessivo dell'urbanistica della nostra città come ho detto in commissione in realtà questa norma è una norma valida ma per quali realtà funziona molto bene? per quelle realtà piccole dove le amministrazioni non hanno una capacità strutturata e strutturale per poter gestire dei grandi interventi di progettazione spesso demandano con delle convenzioni a liberi professionisti con l'occasionalità della presenza del professionista penso ai piccoli comuni e alle piccole comunità montane su questo opera diligentemente perché semplifica sia a chi investe che a chi deve dare l'aumenti volumetrici perché lo dice la legge non c'è da negoziare niente ecco tanto per essere chiari invece in una realtà come complessa come quella della città di Sesto e San Giovanni che poi ha visto nel momento clou dell'esplosione del lavoro tra gli anni 50 e 60 e 70 un fiorire di abitazioni senza poi un disegno organico ora compito dell'amministrazione e degli uffici preposti è quella di rimettere un po' di ordine come si arriva a rimettere questo ordine? ad esempio stabilendo in alcune vie in alcuni quartieri caratteristici la cortina edilizia cioè tradotto significa la possibilità per chi non è allineato su una cortina di edifici di alzarsi fino a mettersi in linea quindi dare un prospetto uniforme ad esempio faccio un esempio per capirci viale Matteotti, viale Casiraghi cioè viali di una certa importanza che si abbia una visione diciamo un'ottica un cono visivo uniforme ma questo vale anche per i microquartieri anche gli isolati tant'era che vi ho fatto cenno e poi chiudo ma sono informazioni che vi do per darvi consentirvi di dare un giudizio anche tecnico non solo valutazione politica sulla proposta sto dicendo nella proposta di PGT introduciamo anche una mappa altimetrica degli isolati perché a differenza di utilizzare un aumento diciamo generalizzato di altezza come fino ad oggi era consentito in città cioè fino a 25 metri in generale noi preferiamo andare in base alle caratteristiche che via via si sono già create sul tessuto urbano quindi abbiamo quartieri che hanno un'altezza media ponderale di 22 metri abbiamo già quartieri che hanno un'altezza media ponderale di 27 o 32 abbiamo un centro un'altezza media tra i 55 e i 62 quindi voi capite che c'è forte disomogenità allora ecco dove andiamo noi a regolare questa cosa quindi per noi poi è più facile ad esempio gestire questi aumenti volumetrici in aree dove già c'è una capacità edificatoria in altezza superiore rispetto a quella che è una media ponderale di isolati più piccoli l'esempio che ho portato in commissione è voi pensate un aumento volumetrico non da noi con la possibilità di non essere da noi controllato in un isolato dove c'è un'altezza di 17 metri e questo diventa un fungo da 25 metri voi capite che è inconciliabile con lo stesso tessuto ecco questo è quello dove noi invece andiamo a dire interveniamo noi perché governiamo proprio questo processo decisionale attraverso che cosa questo meccanismo è possibile farlo principalmente attraverso il permesso convenzionato che è lo strumento principale come vi ho già fatto cenno in commissione che noi demanderemo nel nuovo PGT come strumento di governo della nuova edilizia sestese ed è quello che consentirà all'amministrazione di avere praticamente sott'occhio e sotto traccia il controllo di tutta l'edificazione perché spesso come voi sapete lo strumento non sempre di controllo è nella disponibilità dell'amministrazione negli attuali meccanismi perché alcune ristrutturazioni alcune riqualificazioni edilizie non ha bisogno dell'assenso dell'amministrazione ma vanno in automatico e spesso ci troviamo a delle strutture brutture edilizie non solo in termini di qualità che quello è un gusto proprio di ciascuno di noi ma soprattutto in quei meccanismi dove abbiamo delle disallineamenti nelle altezze è quello che noi vogliamo prevenire attraverso un governo diretto da parte dell'ente è proprio questa disarmonia grazie grazie a lei assessore apro la discussione per la prenotazione basta un'alzata di mano per cortesia grazie non ci sono interventi consigliere Kitov prego grazie presidente come diceva l'assessore le prime due delibere soprattutto si tengono si tengono strette sono derivano da una normativa regionale e questa nella fattispecie indica come impegno da parte dell'amministrazione comunale quello di individuare edifici o aree di esclusione del territorio comunale dalle norme per arrivare a una premialità laddove non viene applicata una premialità volumetrica dell'indice del 20% noi saremo siamo favorevoli sulla proposta che questa amministrazione comunale porta in consiglio questa sera ci convince ci convince una scelta radicale le parole dell'assessore sono parole convincenti quando dice sul nostro territorio la pianificazione urbanistica cara regione Lombardia lascia l'affare a noi e quindi escludiamo completamente il territorio di Sesto San Giovanni San Giovanni dell'applicazione di questa di questa legge una una legge che guardate bene è molto direttiva dall'altro cad discende per tra virgolette suggerire o non far discutere su premialità volumetriche le critiche che vengono rilevate in modo molto chiaro ci sono anche nella delibera che ci viene presentata laddove si dice che l'applicazione generalizzata degli incentivi di cui la legge regionale eccetera sul restante territorio urbano consolidato e quindi non oggetto di pianificazione attuativa in corso o in previsione rischierebbe di risultare lesiva dei diritti propri della programmazione territoriale vero assolutamente vero la quale ha l'onere di bilanciare e dialogare tra di loro tali incentivi con quelli definiti alla scala locale e poi più avanti si dice anche che le premialità introdotte dalla legge risulterebbero incoerenti con il principio di rigenerazione urbana che si intende applicare attraverso incentivazioni mirate alle reali necessità di recupero del patrimonio edilizio esistente e degradato del comune di San Giovanni sulla base della ricognizione in corso a supporto della redazione della variante stessa siamo assolutamente d'accordo siamo assolutamente contrari a una regione che dall'alto impone questa normativa diciamo siamo stati rassicurati dall'assessore che non verrà impugnata questa decisione dell'amministrazione comunale che la possibilità di escludere completamente il territorio della città è prevista non ci saranno quindi possibilità alcune di impugnare di impugnazione dell'atto né da parte di regione né da parte di altri terzi non mi convincono però le motivazioni che l'assessore porta in aula come già ha fatto anche in commissione consigliare per giustificare una legge regionale le leggi regionali si giustificano in consiglio regionale noi qui questa sera di fatto con il nostro voto che per quanto riguarda il partito democratico sarà un voto favorevole la critichiamo la critichiamo tutti quanti e siamo fortemente d'accordo e appoggiamo la scelta fatta da questa amministrazione che l'amministrazione porta in aula questa sera la motivazione del fatto che comunque noi siamo in corso di redazione del nuovo piano del governo del territorio che si prevedono premialità anche fino al 30% queste sono cose che sapete voi noi ancora su questo non votiamo non diamo un giudizio positivo su questa come dire prospettiva di lavoro perché da questa siamo esclusi in questo momento ne riparleremo quando sarà il momento per ora registriamo che da questa ora si alzerà spero appunto in modo convinto da parte di tutti sicuramente convinto da parte di tutti i consiglieri della maggioranza di forte critica rispetto a un governo regionale che non mi convince neanche mi scusi assessore la motivazione che questa è una legge ben fatta per i comuni piccoli laddove non c'è possibilità così non si dà neanche la possibilità di una concertazione di un trattare sul proprio territorio cioè sei piccolo e quindi il privato può arrivare e tu non hai nessun diritto di come dire opporti e ti becchi il 20% in più al di là del fatto che possa essere o no coerente uniforme con il disegno piccolo magari ma urbanistico sempre di questi territori quindi benvenga questa scelta coraggiosa coraggiosa perché è fatta da una città importante da una città grande da una città che si come dire con orgoglio alza in piedi e dice cara regione Lombardia questa norma noi non la applichiamo lo prevede la legge siamo rincorati rispetto a questo questa esclusione e allora il fatto che possa essere esclusa una città ci viene da dire perché la legge regionale lo fa ma comunque poco importa il principio politico è contestabile lo contestiamo e appoggiamo questa scelta dell'amministrazione di Sesto grazie ci sono altri interventi consigliere Ghezzi sì grazie buonasera presidente vabbè è chiaro che almeno per come ho potuto leggere anch'io stando un pochino al fianco dell'assessore la Miranda questa legge va nell'intento di diciamo promuovere là dove è necessario quello che e che è il metodo che usa una certa parte politica mi permetto di di dirlo appoggiandola essendo da questa parte della maggior da questa parte della sala consigliare è un metodo di incentivazione poi il fatto che noi si sia qua a discutere sul fatto di diciamo staccarci dal percorso normativo presentato dalla regione è anche indicazione ancora di indici ancora di più della libertà che questo metodo comunque lascia e quindi è un altro valore che a mio avviso va comunque trattenuto positivamente da parte di una iniziativa regionale tendenzialmente per mia vocazione preferisco l'incentivo alle tasse e preferisco il metodo della libertà quello della costrizione questo è quello a cui mi sono educato nel tempo e che sto comprendendo essere quello che realmente cambia le cose ciò premesso eh personalmente è chiaro che questo è un atto di estrema fiducia e parlo come presidente della commissione eh urbanistica è un atto di estrema fiducia nei confronti degli uffici che saranno e sono chiamati a monitorare con un criterio di rinnovamento della città eh quello che sarà poi il divenire eh io dico sempre anche quando parlo all'interno dei nostri gruppi eh così di maggioranza anche agli amici politici noi non dobbiamo ragionare eh a due tre anni noi dobbiamo ragionare a vent'anni perché quello che decidiamo oggi lo vedremo e questo purtroppo da cittadini non dentro il contesto politico è difficilissimo da far capire no? perché quando avvicini i cittadini ti vengono e ti dicono eh ma come scusa non avete approvato adesso dovrebbe eh sì calma ma non è che si cambia insomma chi fa politica da molto più tempo di me lo sa benissimo eh purtroppo oggi decidiamo cose di cui vedremo i frutti tra dieci quindici vent'anni e qui c'è tutta la responsabilità che noi come 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 governanti abbiamo perché attraverso la saggezza anche dei nostri tecnici la nostra capacità di leggere il futuro ci sta di mezzo eh c'è tutta la scommessa sull'arrivare eh appunto tra vent'anni eh con un concetto urbanistico eh nuovo rinnovato oggi noi possiamo oggi leggere quelle che sono le conseguenze di una speculazione di cui purtroppo come in molti eh territori italiani insomma eh molte speculazioni che ci sono state nell'immediato dopoguerra eh come diceva benissimo la questione delle altezze nel primo nel primo elemento già su Milano si può percepire questa questa differenza quando arrivi in certe piazze costruite anche decisamente prima della guerra si vede come c'era la tendenza a tenere un'altezza e quindi una volumetria di un certo tipo io vivo in un quartiere eh in cui quando mi affaccio dal retro di casa mia mi viene un infarto perché ma parlo anche purtroppo ahimè di recentissime costruzioni che sono venute su in contesti dove probabilmente l'altezza non avrebbe non sarebbe stata diciamo adeguata rispetto a quello che era il contesto circondare per cui ancora io ringrazio del lavoro che si sta facendo ho molta fiducia e scommetto molto l'assessore la Miranda lo sa perché lo tartasso su questo scommetto molto su un apporto di innovazione profonda attraverso il PGT questa è la scommessa Antonio che noi abbiamo come 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 amministrazione ne vedremo poi il frutto per cui colgo anche l'occasione per ringraziare il grande lavoro che si sta facendo in questi periodi poi ci aspetta un periodo denso urbanisticamente denso no? anche come incontri che avremo e quindi sono proprio curioso di eh ansioso di vedere come potremo veramente rilanciare questo territorio grazie altri interventi consigliere Buonomelli prego Pasquinelli grazie presidente allora con l'approvazione di questa delibera non viene recepita la legge regionale 12 2005 comma 5 dell'articolo 11 che regola le premialità volumetrica per gli interventi su patrimonio edilizio esistente da parte di privati nella misura limite del 20% e di questa decisione verrà data comunicazione a regione Lombardia ciò premesso l'illustrazione della delibera da parte dell'assessore Lamiranda in seconda commissione è stata chiara ed esaustiva nell'evidenziare i punti salienti e qualificanti contenuti nella delibera stessa rinunciando alla premialità volumetrica della regione Lombardia la nostra amministrazione intende riconoscere su interventi di demolizione e costruzione di immobili patiscenti una premialità volumetrica fino al 30% e differenziata in funzione del tipo di intervento e sulla tipologia degli immobili della città costruita le premialità saranno comunque finalizzate in ogni caso a innovazioni urbanistiche sostanziali e finalizzate a migliorare profondamente l'aspetto urbanistico e non solo del patrimonio immobilare della città costruita le due delibere in approvazione questa sera è quella relativa alla premialità sul recupero degli edifici dismessi assoggettati alla disciplina dell'articolo 40 bis della legge regionale 12 2005 sempre delibera approvata il 21 luglio 2020 saranno preparatori al PGT che verrà approvato nei prossimi mesi ritengo che tassello dopo tassello stiamo facendo un ottimo lavoro per realizzare un PGT innovativo e all'avanguardia che include anche il recupero sostanziale di degrado e che è presente in alcuni quartieri della nostra città vorrei rimarcare che Regione Lombardia non impone nulla lascia libera scelta ai comuni se accettare o meno le disposizioni base della legge stessa grazie 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 a lei consigliere Pasquinelli ci sono altri interventi chiudo la discussione prego assessore grazie volevo solo fare due precisazioni che se di presentazione mi sono dimenticato di darne menzione la delibera viene trasmessa alla Regione come atto di monitoraggio perché è la stessa Regione che prevede nel caso che ci sia appunto un intervento da parte delle singole realtà territoriali di darne comunicazione per tenere il monitoraggio sull'applicazione della norma la norma devo ricordare ha due obiettivi uno è una norma non che impone ma che semplicemente disciplina in generale un governo del territorio della Regione Lombardia è una norma che si pone dentro nel solco della legge 12 che è la legge quadro che governa tutta l'edilizia e tutta l'urbanistica della Regione Lombardia al cui interno ad esempio troviamo anche la codificazione per fare i piani di governo del territorio dove ci sono dei principi da rispettare all'interno di cui c'è l'autonomia dei territori che viene lasciata chi meglio di loro può governare e valutare le singole possibilità è una norma di premialità su cui ad esempio se noi avessimo avuto già il PGT vigente avendo stabilito il limite del 30% avendo già la norma che mi dava le altezze medie ponderali avendo già ridefinito quali sono gli interventi dove possono essere fatti attraverso permesso convenzionato che quindi governo io comunque come amministrazione non mi dava problemi lasciarla sul territorio anche questa premialità perché alla fine si sommavano nel massimo del 30% già codificati in questo momento rispetto alla struttura PGT vigente perché comunque abbiamo un PGT vigente questo andrebbe a creare prima uno stridamento con quello che è l'obiettivo finale che stiamo facendo ma soprattutto una frizione nell'interregno perché noi adesso tra poco arriveremo un momento tecnico dove si passerà dal vecchio PGT ci sarà sei mesi di neutralizzazione delle regole e poi dopo di che ci saranno le nuove regole all'interno di questo solto però non è che è vietato presentare i permessi di costruire ecco vorremmo evitare che all'interno trovandoci noi come realtà in questa situazione non riusciamo neanche a governare questa cosa perché saremo in una situazione appunto di neutralizzazione complessiva delle norme quindi ecco che bisogna calare nella realtà delle singole comunità poi un impianto normativo che è quello che è il compito della regione cioè codificare una regola che vada bene per tutto il territorio come va bene dal sud di Mantua fino a Bormio e alla Valtellina questa è la regola di base poi in alcune comunità come la nostra che sono grosse torno a dire abbiamo i piani di governo del territorio altre comunità non hanno neanche quasi gli uffici tecnici quindi da questo punto di vista non hanno neanche dei piani urbanistici complessivi di gestione del territorio essendo lasciata molto diciamo alla norma già esistente regionale cioè non esiste un sottoquadro di governo e quindi spesso la norma regionale che sopperisce e aiuta queste comunità nel governo del territorio laddove non sono da sole capaci per risorse per una serie di circostanze a governare da sole questo il loro territorio specifico grazie assessore per la precisazione procediamo alla dichiarazione di voto lista civica giovani se stesi consigliere vino prego grazie presidente e buonasera a tutti quando quando si parla di premialità un pochino è bene guardare le cose un po' più da vicino come non si può non condividere le parole che ha detto la consigliera Chittò poco fa anzi lo dice chi rappresenta un gruppo che fa della sestesità uno slogan quando si dice che la la nostra forza si chiama sestesità e inizialmente quando ho ascoltato l'intervento così come quello iniziale dell'assessore pensavo proprio a questo cioè al fatto che finalmente questa amministrazione ha deciso sul mio territorio faccio e decido quello che dico io quindi questa cosa mi aveva riempito in qualche modo anche se vogliamo di di questa sestesità come la come la definiamo noi della lista civica dei giovani sestesi poi considera lasciatemi un dubbio non so l'intervento successivo dell'assessore della miranda non l'ho non so come interpretarlo su un dietrofronto non lo so cioè mi ha lasciato un po' così quindi chiaramente a favore di quelle che sono le riqualifiche di zone dismesse o di edifici dismessi che possano poi ridare un po' di luce alla nostra città perché di questi edifici come abbiamo visto ce ne sono molti dismessi però ripeto mi ha lasciato un po' così questo questo secondo intervento che non so come interpretarlo non so magari mi sbaglierò ecco detto questo la lista civica dei giovani sestesi apposito di questa delibera voterà in modo favorevole grazie grazie sesto al primo posto consigliera Floridi grazie presidente quello che volevo in realtà esprimere io ho espresso benissimo la consigliera Chitto e anche il mio voto sarà favorevole Movimento 5 Stelle consigliere Galante grazie presidente il voto del Movimento 5 Stelle sarà di astenersi dalla votazione riprendendo un po' il discorso cioè tutto vero capisco anche dal punto di vista tecnico che effettivamente tutto quello che ha spiegato l'assessore da Miranda è perfettamente corretto l'unica mia perplessità è proprio nel senso noi adesso siamo in ballo con la nuova variazione del PGT che peraltro non abbiamo non abbiamo perlomeno noi consiglieri di minoranza non abbiamo messo back niente per ora non abbiamo collaborato non abbiamo fatto nessun tipo di passo in avanti rispetto al PGT che verrà poi variato pertanto io mi fido delle parole dell'assessore a Miranda che potremmo ricevere delle primialità quasi fino al 30% rispetto al 20% però io rimarrei anche in attesa del vedere anche il nuovo PGT prima di esprimere giudizio pertanto il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione grazie lista di Stefano Sindaco consigliere Atanasio si grazie Presidente l'assessore è stato molto esaustivo per cui non c'è da aggiungere altro e per noi il voto è favorevole identità civica consigliere Ghezzi grazie Presidente il nostro voto è favorevole abbiamo assoluta fiducia nell'operato dei nostri tecnici e di questa amministrazione grazie Lega Nord consigliere Pasquinelli grazie Presidente favorevoli Forza Italia consigliera Rosa grazie Presidente favorevole Partito Democratico consigliera Perego da remoto prego grazie Presidente dunque noi come gruppo del Partito Democratico non la sentiamo consigliera Perego non la sentiamo stasera va così mi sentite adesso? Presidente in remoto io la sento è la consigliera Perego noi no in aula no mi hanno tolto l'audio si vede così va bene allora Marco puoi dire che faccio fare un consigliere in aula grazie adesso lo stiamo sentendo prego stavo chiedendo all'assessore Lanzoni di farmi da portavoce a questo punto se non mi sentite vabbè chiederò nelle prossime dichiarazioni di voto e di farle fare da uno dei consiglieri in aula niente ribadivo la posizione del Partito Democratico che è già stata espressa dalla consigliera Chittò precedentemente confermo il voto favorevole del nostro gruppo consigliare in questo momento l'abbiamo sentita bene un po' basso ma l'abbiamo sentita amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente abbiamo potuto apprezzare in sbagliata occasione anche nell'ultima commissione stasera nuovamente tutti quegli aspetti che ci fanno portare con tranquillità a votare positivamente in modo particolare apprezziamo molto anche quello che è l'aspetto estetico che non è trascurabile al di là dell'incremento delle superfici eccetera eccetera il mirare ad avere una bellezza io non so sono figlio di geometra di conseguenza forse qualcosa in tal senso ho ereditato ma mirare ad avere una bellezza una continuità un'attenzione a un programma più su lunga su larga scala eccetera eccetera ci rafforza ulteriormente nel nostro voto positivo grazie grazie a lei per la mia dichiarazione apro la votazione per la delibera al punto uno favorevoli grazie a lei chieda 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 agli scultatori a verificare se sarà troppo lungo ok dica quanti sono presenti in aula votanti io mi ho registrati 20 quanti sono in giro allora sono favorevoli per quello che ho visto in aula 19 favorevoli però chiedo aiuto agli scultatori perché ne abbiamo 2 4 6 8 10 sono in totale 20 20 c'è un astenuto quindi sono 19 e poi devi sentire poi chiediamo la votazione remoto la consigliera Perego prego favorevole favorevole bene sono quindi 20 favorevoli e un astenuto nella figura dell'assessore galente del consigliere galente la delibera favorevole votiamo ora per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti uno astenuto da remoto consigliera Perego favorevole prego favorevole sì sì confermo il voto precedente quindi sono 20 presenti uno da remoto 21 favorevoli e un astenuto la delibera è approvata passiamo alla delibera al punto 2 determinazione della percentuale 20 favorevoli 20 favorevoli scusate rettifico sono 20 favorevoli e un astenuto siamo complessivamente in 21 quindi ho sbagliato scusate passiamo alla delibera al punto 2 determinazione della percentuale di riduzione del contributo di costruzione in applicazione al comma 2 e in quiz dell'articolo 43 della legge regionale dell'11 marzo 2005 numero 12 legge per il governo del territorio sulla base dei criteri stabiliti con la dgr numero 11 3509 sedute del 5 agosto 2020 e superamento del dcc numero 13 2016 del 4 4 2016 do la parola all'assessore la Miranda grazie presidente anche questa delibera nel solco della precedente è figlia della delibera principale di agosto della giunta regionale e che ha sempre persegue sempre lo stesso obiettivo rigenerazione urbana no consumo di suolo e implementazione del recupero dei fabbricati dismessi o comunque derupati da questo punto di vista la delibera prevede o meglio fa leva sull'iscontistica degli oneri di costruzione o del contributo di costruzione la premessa che bisogna fare per andare a discutere questa delibera è che cosa ci fa un ente quando incassa gli oneri di costruzione il contributo di costruzione perché gli oneri fanno parte del contributo di costruzione che si compone di oneri di costruzione fondamentalmente da bilancio sono entrate tra virgolette vincolate nel senso che da normativa sono previste che queste somme introitate dall'ente segui appunto di interventi edilizzi e di trasformazione del tessuto vengano poi utilizzate per fare la manutenzione del rimanente del rimanente tessuto già consolidato e quindi strade marciapiedi aree verdi servizi al cittadino inteso come sempre legati alla alla viabilità e quindi impianti semaforici illuminazione in generale all'interno appunto di questa di questa grande voce voi capite che aumentarla o diminuirla consente nel bilancio di un ente cambiare l'incidenza della partita degli investimenti perché ovviamente come ormai credo sappiate tutti non possiamo fare investimenti quindi non possiamo fare interventi sul territorio materialmente eccetera in assenza di entrate specifiche la legge cosa prevede fa leva su un aumento della scontistica già esistente esiste già e in questo senso è già applicata regolarmente da tutti gli enti locali una misura già di calmiramento del contributo di costruzione che varia a seconda che si parli di recupero intervento residenziale o intervento commerciale invertito con uno sconto tra virgolette dal 50 al 60 per cento della voce prevista dall'ente perché qui c'è ancora anche l'autonomia da parte dell'ente di individuare il posto al metro quadro del contributo di costruzione stavo dicendo esiste già quindi questa scontistica come impianto normativo regionale all'interno di questo proprio nell'ottica che vanno queste pronunce queste decisioni della regione lombardia prevede un'ulteriore implementazione di costo di sconto chiedo scusa allegandosi alla delibera una tabella che ha delle percentuali ben declinate e che nel sommarsi potrebbe anche arrivare a azzerare totalmente il contributo di costruzione ad esempio faccio un esempio tanto per capire come può essere la portata in tema di sismicità noi siamo una regione che solo recentemente è stata inserita nell'ambito nazionale nel piano sismico perché non eravamo precedentemente catalogati in questa situazione e quindi adesso spesso ci troviamo nella situazione particolare che anche edifici diciamo che non eravamo abituati in passato i nuovi edifici o anche edifici pubblici testè è quello che dovremmo fare che stiamo facendo con i nostri edifici comunali delle scuole dobbiamo andare a prevenire il rischio sismico è basso il nostro rischio sismico rispetto ovviamente alla realtà del sud ma comunque esiste è catalogato è classificato e quindi nel momento in cui si va a fare un intervento è necessario assicurare anche questa minima soglia sismica nel fare questo ad esempio prevede la regione tra le tantissime voci di depreciamento sul contributo di costruzione l'aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e alla riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni certo noi qua viviamo una realtà tra virgolette in pianura padana siamo su un cuscinetto d'acqua sulle esondazioni siamo tranquilli perché abbiamo già una legge che governa l'ambito del bacino dell'ambra e quindi tutta la fascia di rispetto che dobbiamo avere per le esondazioni non corriamo questo grosso pericolo e quindi è meno impattante questo tipo di sconto applicato in un contributo di costruzione torno sempre a dire ad esempio facciamo l'inverso andiamo in una realtà come quella delle comunità montane dove il rischio idrogeologico è maggiore ovviamente c'è più necessità di andare a intervenire sugli edifici soprattutto quelli di una certa anzianità e tu sta con questi correttivi e allora la legge prevede la possibilità di questa scontistica lasciando come sempre la discrezionalità e l'autonomia e l'autonomia alle singole comunità di decidere se e come a consentire a questi sconti ulteriori sul contributo nel fare questo mette però tre vincoli ulteriori cioè ci sono tre voci specifiche dove a differenza delle altre che possono essere azzerate e quindi lasciare il saldo invariato in questo momento per gli enti ci sono tre voci invece che la regione ritiene seppur con stabilendo una soglia minima queste tre voci debbano essere comunque necessariamente applicate ed è quello che noi andiamo a proporre oggi al consiglio comunale cioè la proposta dell'ente è quella di azzerare portare a zero tutti le varie sottovoci che sono state catalogate e previste dalla regione come ulteriore possibilità di sconto e ridurre ai minimi tabellari quelle tre voci che invece sono comunque ritenute dalla legge obbligatorie che sono se andiamo a ben vedere anche molto specifiche e mirate su politiche di risparmio energetico di risparmio idrico di drenaggio urbano sostenibile poi l'altra è quella legata agli interventi di bonifica che è un tema molto sentito quando si va a fare il recupero edilizio a prescindere dalla realtà territoriale perché le tecniche di costruzione degli anni 40 degli anni 50 quelle prima ancora e soprattutto quelle degli anni 60 vedono i materiali caratterizzati da molti elementi dannosi per la nostra salute e che quindi il recupero prevede anche purtroppo e qui abbiamo l'assessore Magro che dell'ambiente ce ne può dare testimonianza l'impiego di metodologie molto onerose costose per mettere in sicurezza il cantiere in quanto tale lo smantellamento di questi tipi di materiali lo smaltimento e la demolizione e quant'altro quindi un aumento dei costi se l'obiettivo della legge è quello di dire io voglio che non costruiate più nuovo o meglio costruiate il nuovo ma sul vecchio senza più consumare suolo nuovo perché ricordiamo che poi tutto questo impianto si innesta sulla legge regionale del non consumo di suolo quindi bisogna bilanciare un po' il tutto quando si vanno a fare gli impianti normativi prevedono ancora in questo caso una scontistica del 15% risidua poi una particolarità che ad esempio che ad esempio ne abbiamo traccia sul territorio se stese non ne beneficiano perché questa legge si applica ai recuperi edilizi in ambiti consolidati non in aree di trasformazioni quindi attenzione a non fare anche su questo confusione ad esempio c'è un ulteriore sconto premiale del 5% se nelle opere di bonifica io uso la tracciabilità costa la tracciabilità del materiale di bonifica tracciare tutto il percorso ma non solo cartolarmente con le tabelle di carico e scarico ma utilizzando proprio tutto il microchip eccetera ha un posto c'è una certificazione poi di qualità anche dell'intervento e quindi da questo punto di vista la regione correttamente secondo me dice chi va in questo do la possibilità di avere un ulteriore sconto sul contributo di costruzione verso l'ente perché deve farsi carico nella tutela dell'interesse collettivo della salute di un costo aggiuntivo nella correttezza della tracciabilità anche di quello che gli vado a smaltire nella discarica e sappiamo bene come sulle bonifiche spesso leggiamo notizie non belle quindi l'amministrazione ha ritenuto nell'equilibrio di bilancio nel gettito delle risorse attualmente che ahimè sono piuttosto anche scarsi sull'ente di dovere in questo momento andare a limitare l'applicazione di questo sconto limitandole a queste tre macrovoci che sono ritenute dall'amministrazione regionale essenziali nell'aiuto alla rigenerazione urbana in tale senso quindi andiamo a proporre a quest'aula di andare ad approvare la tabella con l'azzeramento di tutte le altre voci e lasciando al 5 15 le tre voci che vi ho detto che sono i minimi di soglia previsti dalla regione anche questa delibera perché è esplicitamente scritto così nella delibera di giunta regionale verrà trasmessa ovviamente all'organo regionale per il monitoraggio e il controllo sull'andamento e sull'applicazione ovviamente di questo impianto normativo nei vari territori grazie grazie assessore apriamo la discussione ha chiesto la parola alla consigliere chitto facoltà di parola prego grazie presidente anche questa seconda delibera come diceva adesso l'assessore deriva dalla legge regionale 12 la legge per il governo del territorio e come oggetto alla determinazione della percentuale di riduzione dei contributi di costruzione e ci vede anche questa favore quindi voteremo a favore della scelta dell'amministrazione comunale di Sesso San Giovanni di ridurre al minimo l'applicazione di quanto previsto dalla legge di regione Lombardia mi auguro però assessore mi permetta che la scelta fatta dall'amministrazione non è soltanto in questo caso un obbligo perché le materie su cui si va comunque ad applicare una percentuale di sconto chiamiamolo così forse in modo improprio sono temi da un punto di vista ambientale e da un punto di vista della legalità e della sicurezza dei cantieri molto importanti quindi io spero che la scelta non sia soltanto presa d'atto di quello che regione Lombardia ha deciso ma scelta anche di vindicare politicamente il fatto che c'è un'attenzione rispetto alle riqualificazioni ambientali rispetto come veniva detto prima al principio di invarianza idraulica idrologica alla gestione sostenibile delle acque delle acque meteoriche al risparmio idrico e al conseguimento quindi del drenaggio urbano sostenibile benissimo 5% un'attenzione alla bonifica degli edifici e dei suoli contaminati bonifica quindi degli edifici sappiamo benissimo che in anni passati l'utilizzo di materiali tossici come l'amianto purtroppo come dire è un'eredità che ci portiamo dietro sia nella parte dell'edilizia pubblica che nella parte dell'edilizia privata che ancora adesso vede la necessità di intervenire di bonificare e la bonifica di suoli contaminati meno 15% l'attenzione poi quindi tutta questa è la parte diciamo attenzione ambientale poi c'è invece tutta la parte di attenzione alla legalità e alla sicurezza dei cantieri soprattutto per quanto riguarda appunto la partita delle bonifiche l'utilizzo quindi nelle operazioni di bonifica di metodiche protocolli e tecnologie innovative tracciamento della movimentazione e pesatura dei materiali in entrate e uscita dei cantieri e quindi in entrate e uscita delle discariche il sistema di sorveglianza guardate è vero che stiamo parlando di altre aree ma questa parte qui questa della diciamo così chiamiamola della legalità e della sicurezza è qualcosa che per noi cittadini se stesi non è nuova sono metodiche che sono state utilizzate per la parte pubblica delle bonifiche della città della salute e della ricerca dove centinaia di cittadini hanno avuto l'opportunità di entrare in un grande cantiere gli è stato spiegato e questo era proprio il percorso era il percorso che è stato portato avanti per cui devo dire in modo molto con grande orgoglio anche rivendichiamo politicamente perché c'è stata una pressione come dire convinta politica perché le bonifiche venissero fatte seguendo un modello che poi anche dal ministero dell'ambiente all'epoca è stato considerato un modello da esportare ci piace in modo forse un po' presuntuoso ma credo che in questo come dire dobbiamo essere tutti molto orgogliosi che in parte siano state anche come dire abbiano fatto un po' scuola anche le procedure che sono state adottate qua quindi non soltanto una scelta d'obbligo ma una scelta politica quella di sostenere queste tre questi tre passaggi però anche qui la critica ci sta non soltanto perché siamo all'opposizione siamo stati molto critici anche a livelli ad altri livelli rispetto a questa a questa legge con questa delibera anche in questo caso l'amministrazione comunale critica in modo esplicito una scelta di regione Lombardia che prevede prima nella delibera precedente prevedeva aumenti senza criterio degli edifici dei volumi volumetrici qui invece ha riscapito una scelta che viene fatta e che obbliga quindi i comuni anche a decidere andando contro la regione Lombardia una scelta che va a discapito delle finanze dei comuni ed è le ricadute per il venir meno di queste risorse che queste risorse comporterebbero che alla fine sono servizi qualità urbana noi quindi ci affiacchiamo a questa critica e lo dichiariamo a gran voce questa delibera peraltro recepisce anche dire l'abbiamo evidenziato in commissione consigliare anche la scelta fatta dal comune di Milano quindi esprimendo quella che è una critica politica verso questa legge perché va in deroga perché regala volumi perché riduce gli oneri pesando sulle casse dei comuni questa diciamo permettetemi la battuta tutto è tranne che una legge che si può chiamare di rigenerazione è un regalo che viene fatto ai costruttori sui quali noi come dire convintamente ci affianchiamo all'amministrazione è un provvedimento quello regionale utile per chi effetto investimenti immobiliari ma non certo per i comuni e infatti siamo qui ad applicare diversamente a fare delle scelte nostre quindi sono norme da piano del governo del territorio che vengono calate dall'alto come ben dice anche la scelta fatta con la prima delibera con una presunzione politica del governo di regione Lombardia che guardate anche sotto gli occhi di tutti noi proprio in questi giorni con le triste vicende dei dati forniti sul covid che hanno lasciato l'intera regione in zona rossa privando pesando economicamente su tutta la comunità ma togliendoci anche la libertà perché poi c'è anche questa cosa che non si riesce a quantificare che è la libertà di ciascuno di noi arroganza presunzione incompetenza appunto e quindi per questo come il precedente sarà un voto favorevole fortemente politico fortemente critico forse più di altri perché appunto vede critici anche voi nell'applicazione grazie grazie a lei signore Chito ci sono altri interventi non ci consigliere Vincelli prego buonasera presidente buonasera colleghi ma sulla questione dell'amiantro sulla questione delle bonifiche noi dobbiamo ringraziare invece la regione Lombardia proprio con ARPA nel lontano 2005 e poi in successivo ha appunto creato chiaramente questa possibilità da parte della regione Lombardia inserita poi all'interno di ogni comune il fattore chiaramente di andare a controllare e andare a monitorare quelle che sono chiaramente le bonifiche quindi tutto sommato non capisco questa questo sia nella prima nel primo intervento e nel secondo intervento da parte chiaramente del PD non riesco a comprendere questa ossessione che si ha effettivamente nei confronti di una regione Lombardia dove comunque è gestita è sempre stata gestita al meglio proprio anche su quella questione delle bonifiche grazie chiaramente a regione Lombardia è stato dato chiaramente appunto la possibilità effettivamente di avere bonifiche all'interno di città della salute grazie non ci sono altri interventi chiudo la discussione assessore deve aggiungere qualcosa passiamo alla dichiarazione di voto lista civica giovani sestesi consigliere vino grazie grazie presidente cederei volentieri il mio tempo alla consigliera Kittop per rispondere al consigliere Vincelli onestamente perché quello che ha appena detto oddio non è proprio così detto questo questa sera non si può non essere d'accordo con le dichiarazioni del partito democratico vede esattamente ha la stessa visione che il nostro gruppo ha in riferimento a questa delibera perché in effetti andiamo verso una sorta di passatemi in termini di autonomia nella decisione quindi criticando politicamente poi quello che è alla regione Lombardia detto detto questo il voto della lista civica dei giovani sestesi sarà un voto favorevole grazie sesto al primo posto consigliera Floridi grazie presidente anch'io mi accodo al pensiero del consigliere vino e della consigliera Kittop e anche il nostro voto è favorevole Movimento Cinque Stelle consigliere Galante grazie presidente il nostro voto sarà di astensione grazie lista di Stefano sindaco consigliere attanasio grazie presidente anche il voto della lista di Stefano sindaco è favorevole identità civica consigliere Ghetsi grazie presidente no mi fa un pochino tenerezza il fatto di sentire che il PD questa sera colga questa delibera che è prettamente tecnica come un'occasione per sparare un po' di fatto contro chi dirige questa questa regione che sappiamo benissimo essere appartenente alla Lega e mi ricorda qualcuno qui vicino per cui sinceramente io vorrei rifocalizzare la nostra attenzione anche se è vero questo è un ambito politico ma io vorrei stare proprio sull'ambito tecnico nel senso che noi qui dobbiamo andare a filtrare sul territorio e declinare sul territorio quello che può essere una sacrosente iniziativa che altrove può essere applicabilissima quindi non c'è nessuna speculazione politica su questo quindi sicuramente il nostro voto è ovviamente favorevole ma vorrei smarcare questo diciamo questo questo consiglio da questa impasse che a mio avviso può solo confondere grazie lega nord consigliere pasquinelli grazie presidente favorevoli forza italia consigliera rosa grazie presidente favorevole partito democratico consigliera perego no consigliera chitto prego grazie presidente due cose allora io invece provo tenerezza nei confronti della componente civica che fa tanta fatica ad ammettere che in questa aula consigliare si fa politica e che i voti che siamo portati a esprimere sono voti politici perché se fosse tecnico non passerebbe da quest'aula mi fate voi tenerezza ancora una volta dopo quattro anni in cui siete al governo sentire queste cose non può che farmi sorridere personalmente non ci si sporca le mani facendo scelte politiche ci si scontra ci si confronta non ci si sporca le mani si può essere critici si si può difendere una scelta altrettanto non ci si lava le mani non ci si lava le mani però ed è vostra abitudine purtroppo lo fate troppo spesso e poi consigliere Vincelli mi permetta l'ossessione è la sua nei confronti del partito democratico perché addirittura arrivare a dire che il beneficio come dire che le bonifiche sulla città la salute ricerca sono merito di regione Lombardia quando la regione Lombardia su quel sito lì non c'entra niente perché chiama si sito di interesse nazionale di competenza del ministero dell'ambiente ministero nazionale Vincelli almeno si informi sulla storia di questo territorio prima di intervenire l'ossessione è la sua e la tenerezza che provo è nei confronti dei colleghi civici il nostro voto sarà favorevole amiamo sesto consigliere Molteni grazie come civico mi fa piacere suscitare ancora tenerezza non mi risulta facile ultimamente comunque il nostro voto sarà favorevole ma grazie ma veramente non è pari di cuore grazie passiamo alla votazione della delibera favorevoli contrari astenuti uno astenuto da remoto consigliera Perego favorevole grazie presidente allora rettifico anche il numero di voti della delibera precedente scusatemi il mio esordio sono un po' emozionato lo ammetto ma presenti in aula 21 da remoto 1 quindi i votanti sono 22 e ovviamente esattamente come per la prima delibera anche per la seconda 21 favorevoli un astenuto nella figura del consigliere galante scusatemi ancora votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti un astenuto da remoto consigliera Perego favorevole grazie presidente a lei segretario ovviamente l'immediata eseguibilità dell'atto segue i votanti precedenti quindi 22 votanti 21 favorevoli 20 in presenza uno da remoto si astiene il consigliere galante a delibera è approvata ovviamente passiamo alla delibera al punto 3 approvazione schema atto di rinuncia alla servitù FG 43 mappale 68 parte ambito integrato di intervento ex Ercole Marelli do la parola all'assessore la Miranda prego grazie presidente questa sia una delibera politica le precedenti erano delibere in senso sostanziale tecniche perché da una norma l'amministrazione si limita semplicemente ad applicare o disapplicare e in quale parte la norma proposta dalla regione qui invece è una scelta urbanistica specifica perché se prima la scontistica ad esempio era irrilevante per un comune dove ci sono le seconde case e quindi poteva applicare to cure una scontistica a contributo zero per il costruttore perché tanto il ricarico l'ente ce l'ha dall'immu della seconda casa e quindi la contribuzione per la manutenzione dei manti stradali e di quant'altro è legata ovviamente alle seconde case ovviamente in realtà come il sesto ragione esattamente diametro a metoposto e questo l'avevo anche già spiegato bene come funzionava il meccanismo in commissione perché vi dimenticate sempre che sono leggi regionali non sono leggi locali e quindi devono avere un'applicazione erga omnes questa invece è una scelta politica precisa come ho detto in commissione stiamo riorganizzando e rivedendo anche l'intervento del P Marelli come sapete nella vicissitudine fallimentare del precedente assetto proprietario oggi finalmente abbiamo al momento un nuovo interlocutore che è multimedica che ha acquistato l'area dal fallimento e che ha già formulato un'istanza di aggiornamento del P al tempo stesso noi come amministrazione abbiamo già fatto precedentemente a questa richiesta del nuovo soggetto attuatore abbiamo fatto già un intervento di governo di quell'area dove siamo andati a chiudere il procedimento di abuso edilizio che esisteva sul centro edison sempre in viale edison acquisendo a patrimonio dell'ente il piano terra dove abbiamo spostato gli uffici tributari a completamento di questa diciamo riorganizzazione degli assetti di contabilizzazione perché nel frattempo con una delibera di giunta del 2017 che è seguita poi una del 2018 abbiamo parzialmente contabilizzato anche le opere pubbliche effettivamente già realizzate dal PI Marelli rispetto agli edifici costruiti e alle residua SL costruenda andiamo ad intervenire sempre nell'ambito della convenzione su un diritto di servitù di passo pedonale che era stabilito tra i contraenti in particolar modo lo andiamo a individuare negli allegati di mappa che sono alla delibera e consiste in una parte di territorio di terreno adiacente all'edificio XABB caratterizzato dalla presenza di un'area parzialmente occupata dalla rampa di scivolo per accedere ai box sotterranei a una parte occupata da impianto di servizio e un'ulteriore residuo a parte occupata da un traliccio dell'alta tensione nella convenzione era indicato esplicitamente che questo ambito territoriale che non costituisce un'area convenzionalmente a standard quindi non va a soddisfare il bilancio costruito verde libero quindi area pubblica libera area impegnata a fondiare ma rimaneva nell'ambito della superficie fondiare quindi era ed è un terreno legato all'edificio in quanto tale ABB che è quello su cui praticamente tecnicamente si dice consente di galleggiare all'edificio in ragione di questo era semplicemente stabilito un diritto di passo qual era la funzione probabilmente perché poi in realtà questo diritto inizialmente previsto è stato confermato nella variante del 2013 che aveva visto però una modifica del plan volumetrico rispetto all'impianto originario del 2004 da quello che ne abbiamo dedotto noi da quello che si può vincere leggendo un po' le carte era la volontà di lasciare un collegamento tra l'attuale piazza Montanelli e l'erigenda piazza sulla parte diciamo ancora oggi incompiuta lasciando in questo punto un collegamento di passaggio un collegamento che però si trovava una situazione un po' particolare perché nel 2013 quando si va a fare la variante si va a confermare questo diritto di servitù di passo tuttavia però questa area questa porzione era già impegnata dall'edificio di Airbnb quindi già esisteva la discesa per gli interrati esisteva già una parte di quest'area occupata dall'impianto tecnologico al servizio dell'edificio e c'era il traliccio che è quello che c'è sempre stato e quindi da questo punto di vista non è cambiato niente quindi questa funzione diciamo o era sfuggita dall'epoca non abbiamo noi ben compresa quale fosse l'effettiva natura questo poi si va a innestare su un progetto di riqualificazione di questo intervento dove abbiamo un'ipotesi dove sia l'attuale proprietario nuovo multimedica sia il fondo che detiene l'ex Alstom hanno tutte e due una volontà di parzialmente andare a modificare e risagomare gli ambienti pubblici in quel punto laddove ad esempio l'ex il fondo che gestisce in questo momento l'ex Alstom prevede di andare a demolire tutto l'edificio che attualmente è inutilizzato e di parte di lasciarlo poi a piazza quindi ad aprirlo alla collettività e poi usare la residua superficie che ne rimarrebbe per fare altri tipi di funzioni ammesse già adesso dal Pima che in ogni caso saremmo noi favorevoli nell'ottica dell'economia circolare di dare la possibilità di ricollocare nuove funzioni all'interno di quell'ambito produttivo ecco all'interno di questo quindi il collegamento se quello era la natura iniziale di questo collegamento di questa servitù di passo si sposterebbe semplicemente di qualche centinaio di metri un po' più a nord però sarebbe sempre sul limite fronte università di fronte all'edificio Exalson che troverebbe come vi ho detto uno sgombero sostanziale con una nuova piazza quindi insieme a una viabilità che anche lì di collegamento rispetto a quella attuale che è Monca come avete visto che arriva fino appunto a Piazza Montanella e poi non ha prosecuzione quindi nella prosecuzione anche di quella viabilità garantiremmo comunque quel collegamento sostanziale quella permeabilità tra questi due ambiti di trasformazione il vantaggio quale è dell'ente che semplicemente noi scraviamo il privato da avere questo onere trascritto su questa proprietà con le difficoltà di utilizzo sostanziale di questa servitù di passo ma al tempo stesso troviamo il vantaggio economico dell'ente che deve questo rinuncia da parte del comune a questo diritto che gli era stato riconosciuto deve essere ovviamente monetizzato come viene monetizzato l'operatore aveva proposto 116.000 euro di monetizzazione se non ricordo male vado a vedermi 114.696 l'amministrazione ha rideterminato la somma poi accettata dall'operatore in 162 adesso mi sfugge qua 146.030 a fronte di questa 146.030.89 come si arriva a determinare questo un meccanismo diverso rispetto a quello usato dalla proprietà la proprietà usa diciamo la come metodo quello della delibera del 2016 che prevede la monetizzazione al metro quadro noi diversamente non applichiamo questo meccanismo ma applichiamo quello della proprietà cioè il valore venale dell'area essendo proprietà fondiaria e lo abbattiamo di tre quarti o meglio ne prendiamo un quarto che è il valore di una servitù sostanziale perché è qualificabile anche un diritto di usufrutto e nella stima che se fate andate a vedere qualunque ricerca fate si aggira intorno al 30 35% il valore economico di un usufrutto tanto è vero che una servitù di questo tipo è stata computata con questa incidenza se andate a vedere poi nel computo c'è tutta la tabella legata dagli uffici dove vi hanno fatto gli indici omi in mercato immobiliare vi ha fatto la media e hanno determinato appunto la media ponderale e hanno quindi determinato il prezzo congruo di valore dell'area quello che conta è che la proprietà commerce ha accettato questa nostra contro offerta e quindi andiamo a sproporre al consiglio comunale di autorizzare ovviamente la struttura tecnica a sottoscrivere l'atto che avete visto che vi è stato anche allegato della bozza che è la rinuncia onerosa di servitù e che appunto andremo a introitare nella partita investimenti e ovviamente con la vincolo anche in questo caso essendo investimenti di destinarli a partite specifiche nel caso di specie come già alcuni sanno ipotizziamo di andare a coprire per 35.000 euro il CAM di Viale Matteotti che era già stato inizialmente finanziato con la vendita di via Vittorio Veneto poi in realtà quella somma è stata impiegata per alloggio ERP per riadattare alcuni alloggi ERP e quindi abbiamo adesso in questo momento andiamo a ricaricare questo intervento che avevamo già previsto nella nostra pianificazione di andare a riadeguare l'ex edificio circoscrizione 2 quindi farlo diventare un centro aggregativo multifunzionale in questo senso appunto venendo incontro anche alle richieste da parte dell'assessore Pizzocchera questo è quanto ritengo che è una buona occasione per l'amministrazione per l'ente di portare a casa un po' di soldini reinvestirli in interesse reale sostanziale e anche con parte interesse sociale perché comunque si va a fare un centro a riqualificare un locale per farlo diventare un centro di reaggregazione ma soprattutto io la leggo con quell'impostazione che ho dato in questo momento agli uffici da quando sono arrivato cioè quello di tecnicamente noi li chiamiamo gli adminicula si chiamano giuridicamente si chiamano adminicula servituts proprio cioè andare a liberarci di tutti quei pesi di tutte quelle piccolezze che abbiamo in carico all'ente che difficilmente siamo capaci di gestire perché gestire un ente di queste dimensioni non è facile soprattutto con situazioni particolari come questa servituccia e un'altra che stiamo trattando con un altro fallimento che la chiamiamo la cosiddetta striscia rossa che è una roba assurda che ci troviamo in un più vecchissimo del ring nord sono tutte piccolezze che ci sono che hanno poco valore economico alcune come la striscia rossa questa ne ha di più ma che era inutile tenere in capo a favore dell'ente cioè un ente efficiente deve anche essere sotto questo aspetto non solo nel funzionamento della macchina amministrativa ma deve avere anche una capacità di saper razionalizzare al meglio ottimizzare al meglio il proprio patrimonio farlo anche su queste piccole cose dimostra la grande attenzione che viene posta in questo momento nel saper ottimizzare o meglio incominciare col principio di ottimizzazione nella gestione al meglio del proprio patrimonio grazie grazie assessore la miranda apro la discussione interventi nessuno si prenota chiudo la discussione prego consigliere Leo grazie presidente buonasera a tutti non se la prende a presidente ma ovviamente la speranza guardi me la prendo per altre cose consigliere Leo non per questi giochini no no ma non è un giochino è anche quella per vedere per dare la possibilità ai colleghi di intervenire che come sempre a frotte sgomitano per intervenire come abbiamo diciamo visto in tutti questi mesi in tutti questi anni no inizio con una battuta questa sera come anche in altra occasione ma soprattutto in questo periodo sentiamo dei rumori strani il classico rumore delle unghie che stride sulle lavagne no specialmente dai leghisti e da io definisco ex civici no perché poi alla fine è così che siete siete degli ex civici comunque scusatemi la battuta mi sono magari fatto un po' prendere dal momento in cui siamo tempestati da informazioni che arrivano su delle parti dove insomma la nostra cara regione Lombardia non sta facendo una bella figura né sul territorio nazionale neanche ce la sta facendo fare a livello internazionale quindi comunque entriamo nel merito della delibera beh non avremmo complimenti non avremmo molto da dire su questa delibera se non il fatto che scusate mi abbasso leggermente la mascherina perché faccio fatica il fatto che l'area in questione che è una piccola porzione di territorio non fosse collocata in un'area che come tutti sappiamo all'interno di un comparto urbanistico che chiamiamo da sempre area P ex Marelli nulla da obiettare tecnicamente negli atti e nel merito tecnico della stima economica uno dei dubbi però rimane come tutti sappiamo tutto il comparto l'ha appena anche detto l'assessore è ancora in evoluzione e non sono ancora definite completamente le possibili funzioni pubbliche ricordo che l'ex P Marelli votato in quest'aula nei primi mesi del 2012 non ricordo prevedeva tra le tante cose la realizzazione del museo dell'università questa fu una delle ragioni che in fase di creazione del P generò questo diritto di servitù di cui stiamo discutendo la vendita qui questa sera essendo tutti a conoscenza come dicevo prima che arriveranno delle nuove funzioni in questo comparto l'ha detto anche adesso l'assessore come lo spostamento da via milanese dell'ospedale multimedica che pur essendo una struttura privata a futura presenza ha comunque una ricaduta pubblica forse era il caso di aspettare di capire se questo diritto di servitù poteva essere ancora mantenuto almeno per un altro anno non aver fretta e non essere attratti solo dalla monetizzazione senza avere un quadro urbanistico d'insieme proprio in funzione dei possibili sviluppi futuri ma non troppo lontani della possibilità di mantenere questo diritto probabilmente qualche ragionamento è stato fatto ma come sempre senza ascoltare la città e quindi in modo frettoloso per questi motivi pur non avendo nulla da pietare tecnicamente sulla delibera abbiamo politicamente il dubbio che questa operazione poteva ancora aspettare comprendiamo che si introitano delle risorse 146.030 euro circa e queste che queste sono utilizzabili per la realizzazione o la manutenzione di altre opere pubbliche e come abbiamo sentito in commissione l'assessore aveva detto che intanto che ringrazio per la disponibilità in commissione su tutte le domande in pratica ha risposto a tutte le domande tecniche sollevando da questa incombenza i dirigenti e i tecnici che lo accompagnavano in commissione che tra l'altro però stasera non vedo di solito quando ci sono dei liberi urbanisti che ci sono anche i dirigenti e i tecnici eh vabbè però bravissimo però adesso io sono andato a riguardare velocemente invito a concludere grazie e non ho visto o forse mi è sfuggito lei stasera ha parlato di centri di aggregazione che verranno riutilizzati questi soldi tutti i casi e niente quindi posso dire soltanto una cosa conclusione di intervento che forse eh visto anche dove si pone questa zona che corrisponde sia l'ex area Marelli ma che di fatto è in quella zona è poco urbanizzata intendo come residenza ma in realtà confinante con lo storico Rione Vittoria che ha tanto bisogno di interventi di riqualificazione come alcuni giardini e alcuni aiuole vedi anche quella dell'incrocio tra le vie Villoresi e Monte Sabotino dove sappiamo tutti poco tempo fa è crollato improvvisamente un grosso albero che fortunatamente non ha causato vittime di cui i residenti vorrebbero condividere con l'amministrazione questo l'abbiamo già comunicato anche se solo verbalmente all'assessore condividere con l'amministrazione una progettazione e un nuovo riutilizzo di questi spazi a tal proposito ci aspettiamo che già da stasera in sede di rieplica a questo mio intervento l'assessore alla Miranda si impegni a riutilizzare le nuove risorse in questo rione adiacente l'area in questione e niente concludo grazie concludo facendo scusi presidente facendo gli auguri visto che stasera ha detto che era emozionato al dottor Rizzoni per questa sua presenza da oggi in avanti in questo consiglio comunale grazie grazie molto gentile altri interventi non ce ne sono chiudo la discussione scusa però consiglieri lo dico a tutti indistintamente io lascio sempre dei minuti dei secondi in più lascio parlare e cerco di essere ma sono brevissimo però per cortesia non mi piace neanche essere preso per i fondelli quindi chiedo sempre se ci sono altri interventi lascio qualche secondo per alzare la mano e mancabilmente facciamo questi giochini non li credo molto intelligenti sinceramente prego consigliere Vencelli a facoltà di parola sì grazie ma sarò brevissimo beh diciamo che la regione gode di ottima salute il governo no questo per dare una battuta effettivamente a all'opposizione poi sul discorso della delibera beh ci trova sicuramente d'accordo su una questione chiaramente di questa di questa delibera in quanto poi gli introiti giustamente arriveranno in parte in quartiere due rondinella dove c'è un rilancio dove si spera si auspica un rilancio in questo in questo quartiere con il centro attività multifunzionali sicuramente anche altre altre zone io condivido ecco su questa cosa condivido che anche in altre zone come il quartiere Vittoria si possa effettivamente intervenire perché mi vede abbastanza spesso in quella zona lo dico mi scrivono e quindi sicuramente sicuramente si troverà anche questa questa soluzione grazie chiudo la discussione della delibera alla delibera al punto 3 è stato presentato un ordine del giorno rappresentato il consigliere garante alla facoltà di parola prego grazie presidente ma l'ordine del giorno è stato bocciato dall'assessore la miranda consigliere garante gli ordini del giorno non li boccia l'assessore garante se sono ammissibili o non ammissibili lo decide il segretario quindi lei ha ricevuto comunicazione da parte del segretario generale assolutamente no ha avuto solo comunicazione appunto quindi l'ordine del giorno c'è lei lo può presentare prego perfetto sì ha due minuti di tempo per la presentazione ok allora praticamente il Movimento 5 Stelle proponeva appunto l'utilizzo di questa risorsa di 146 mila euro nei confronti alle unità abitative del tipo nel senso noi abbiamo fatto l'ordine del giorno in quanto appunto la nostra città con l'acuirsi della crisi economica e sociale sta vivendo un'emergenza abitativa che la comuna ha altri comuni definita tensione abitativa a noi confinanti le difficoltà economiche nell'avere e nel mantenere un alloggio sono diventate condizioni di bisogno inedite mettendo in difficoltà molti nostri concittadini la perdita la perdita dell'alloggio è tema angosciante centrale di fatto fenomeno destabilizzante che rischia di minare i concetti stessi di civiltà e coesione sociale l'articolo 25 della dichiarazione universale di diritti dell'uomo adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 dice ogni individuo ha il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione al bestiario all'abitazione e alle cure mediche e servizi sociali necessari ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione malattia invalidità vedovanza vecchiaio e in altri casi di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà il consiglio comunale impegna la giunta destinare interamente l'introito in entrata della delibera approvazione schematto di rinuncia alla servitù FG 43 Mepale 68 parte ambito integrato di intervento ex Ercole Marelli avente come determinazione dirigentale 04 2021 07 1 2021 la stima della suddetta rinuncia alla servitù pari a 146 mila euro 030 89 centesimi a sostegno delle politiche abitative del nostro comune grazie grazie a lei consigliere Galante adesso diamo la parola a un consigliere per gruppo su richiesta io farei subito dopo prego 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 grazie presidente allora l'amministrazione come già precedentemente espresso nelle mail mandate a tutti i consiglieri comunali esprime parere negativo all'ordine del giorno in ragione delle motivazioni che ho già reso noto a tutti i consiglieri ovvero parliamo di una rinuncia a un diritto reale la servitù è assimilabile ai diritti reali nella legge che governa il testo unico degli enti locali la partita diritti reali le alienazioni rinunce e quant'altro come voce rientra poi nella partita degli investimenti e quindi la richiesta che viene fatta di vincolare l'entrata a sostegno di politiche abitative invece rientra nell'ambito dei servizi questi tipi di voci vengono finanziate a bilancio nella partita delle spese correnti e non nella partita degli investimenti in ragione di ciò non è ammissibile diciamo l'intento seppur di pregio come ho detto io e nobile non è ammissibile nella sostanza cioè nel senso non possiamo in sede di delibera andare a vincolare questa somma a copertura di una politica di sostegno in politiche abitative perché de plano poi il segretario comunale dovrebbe dichiarare improcedibile l'ordine del giorno assunto dall'aula tecnicamente va comunque votato laddove appunto il soggetto proponente non vi abbia a rinunciare e quindi la proposta dell'amministrazione è quella di un voto negativo per le ragioni che vi ho motivato grazie presidente mi scusi ho la possibilità di ritirare l'ordine del giorno certo sì prima della votazione allora ritiro l'ordine del giorno grazie va bene consigliera pastorino prego mi scusi grazie presidente intanto mi scusi segretario ma era ammissibile cioè anche noi ci siamo posti un attimino la domanda se aspettasse all'assessore insomma dare dare questo questo giudizio tramite una mail per cui abbiamo detto naturalmente che c'è il segretario che darà un attimino la sua la sua versione grazie mille come rispondo io come le ho detto poi facciamo rispondere al segretario non c'è nessun problema quindi non posso esprimere un mio pensiero l'avete deciso i procedimenti quindi vengono decisi da voi presidente e vogliamo alla risposta del segretario grazie si accomodi prego prego segretario allora consiglio pastorino anzitutto una precisazione quando rivolgete un quesito segretario deve comunque essere esposto alla presidenza del consiglio in modo tale che io posso poi intervenire lo dico non per non dare una risposta che invece vado a motivare richiamando pienamente l'articolo 74 del regolamento di consiglio comunale io mi sono semplicemente attenuto a la coerenza tra l'oggetto dell'ordine del giorno e che può essere correlato all'argomento che viene ad essere trattato non ho fatto alcun riferimento ai contenuti perché sui contenuti è evidente che una risorsa che viene ad essere recuperata dall'amministrazione attraverso in questo caso l'acquisizione anzi l'alienazione di un diritto reale minore non può che essere impiegata per attività che vedono quelle risorse in investimenti non in spesa corrente quindi io mi trovavo mi trovavo mi trovavo nella condizione diciamo sempre nella logica sono all'esordio eh di correlare la possibile collocazione in procedimento di un ordine del giorno con i contenuti del medesimo che eh avevano le carenze che io ho appena espresso ho ritenuto che in punta di settantaquattro di articolo settantaquattro eh la possibilità di eh collocare l'ordine del giorno a votazione fosse procedibile è altrettanto evidente che qualora quell'ordine del giorno fosse stato approvato e i contenuti del medesimo non potevano essere accolti proprio perché eh per i motivi che ho appena detto prima però eh io voglio precisare questa diciamo distinzione tra è procedibile sì è è approvabile con quei contenuti no ma la richiesta era l'ordine del giorno è procedibile o non è procedibile per me è procedibile è eh poi eh come dire deliberabile eh in accoglimento no perché i contenuti non lo sono mi scusi eh intanto la ringrazio della spiegazione e se ho scavalcato il presidente Fiorino l'ha fatto anche adesso me ne scuso e e volevo fare e va beh comunque voglio dire però eh rimane sempre un po' un po' ambigua la risposta cioè sicuramente ehm noi ci aspettavamo se era ammissibile o meno comunque va benissimo cioè ci mancherebbe soddisfa in parte insomma la sua risposta la ringrazio la domanda secca è ammissibile o no è ammissibile punto bene allora l'ordine del giorno è stato ritirato procediamo alla dichiarazione di voto lista civica sto parlando della delibera grazie c'è qualcuno che ha da dire qualcosa d'altro così stasera chiudiamo in belletto allora l'ordine del giorno è stato ritirato procediamo alla dichiarazione di voto della delibera tutti calmi e sereni lista civica giovani se estesi consigliere vino a facoltà di parola prego grazie presidente no non se la prenda presidente voglio dire se noi prima abbiamo magari detto no alla sua al suo intervento non se la prenda da questo punto di vista ci mancherebbe non volevamo scavalcare nessuno però era giusto che sentissimo il segretario ecco tutto lì no tutto qui volevo precisare anche questa cosa prendo atto che molti di voi non sanno bene il regolamento tutto qua no no magari è anche un po' reciproco visto che comunque lei non è la persona preposta a rispondere ma a dare la parola noi non volevamo la sua risposta volevamo la risposta del segretario lei è lì per fare l'arbitro fondamentalmente prego andiamo in dichiarazione di voto la ringrazio delle associazioni che le faccio sempre tesoro il suo parere non ci interessava più di tanto in questo momento ci interessava quello del segretario ecco tutto qui detto questo ho sorriso un pochino sulla diatriba dei 140 mila euro come se fossero miliardi che dovessimo distribuire su tutto il territorio mi viene in mente un po' un qualcosa come un po' di anni fa che sentivo parlare di riqualifica della zona del quartiere uno di via Marconi 130 mila euro con 130 mila euro in un momento io non faccio neanche l'imbiancatura di un palazzo qui stiamo parlando e stiamo contendendoci dove e come i 140 mila euro forse forse io farei un passettino indietro e ragionerei se oggi questa è la scelta giusta se non appunto spostarla magari un pochino più avanti quando quell'area prende una forma e un indirizzo completamente diverso visto che è in fase di trasformazione arrivano ultimi arrivano altre probabilmente realtà forse visto che 140 mila euro non sono la soluzione se sono Giovanni e poi voi ci avete abituato a trovare risorse ovunque abbiamo sponsor che fanno sistemano le ruole abbiamo colleghi commercianti che danno disponibilità a usufruire di wifi e corrente per le telecamere a favore dell'amministrazione quindi dire che 140 mila euro sono una risoluzione della città mi fa un po' sorridere detto detto questo ripeto secondo noi forse sarebbe stato più utile in questo momento magari fermarsi un attimino e ragionare un pochino più avanti per quanto riguarda questa cessione detto questo il nostro sarà un voto di astensione grazie grazie consigliere Vino sesto al primo posto consigliera Florin grazie presidente troverebbe anche a me d'accordo in realtà spostare in avanti questa decisione non avendo ancora una visione di insieme come hanno detto i colleghi il nostro voto comunque di astensione grazie consigliera Florin movimento 5 stelle consigliere Galante grazie presidente anch'io sono d'accordo con quanto detto dai consiglieri la consigliera Florin di consigliere Vino e quindi anche il nostro voto sarà da astensione lista di Stefano sindaco consigliere recupero grazie presidente il voto della lista di Stefano è favorevole grazie identità civica consigliera Iosa grazie presidente il nostro voto è favorevole Lega Nord consigliere Pasquinelli grazie presidente favorevoli Forza Italia consigliera Rosa grazie presidente favorevole partito democratico consigliere Leo grazie presidente ne approfitto di questo minuto che ci mettete a disposizione per fare la battuta perché alla fine poi consigliere Vincelli mi stimola che la Lombardia goda di ottima salute caro consiglier Vincelli insomma direi proprio che non so allargo le braccia non ci sono neanche più aggettivi per definire che siamo diventati anche lo zimbello d'Italia perché su 20 regioni c'è una che sbaglia ed è la Lombardia ma vabbè comunque torniamo il governo il governo avrei voluto vedere voi al governo con la pandemia cosa facevate forse eravamo in zona nera altro che rossa va bene bravissimi no no ma non mi non ho problemi e per quanto riguarda l'Ardie Libra mi fa anche piacere visto che non abbiamo avuto occasione di parlarci in questi giorni perché molto molto impegnati con i colleghi dell'opposizione di avere tutti quanti in modo autonomo la stessa idea si poteva anche aspettare non c'era tutta questa fretta di monetizzare questi come diceva il consigliere Vino con cui sono d'accordo ma prego di concludere questi 146 mila euro ecco quindi visto un po' diciamo come si sta come si è evoluta la discussione di questa delibera il nostro parere il nostro voto sarà di astensione grazie amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente così tanto per anch'io come battuta dico non è che solo il governo si è trovato ad affrontare la pandemia anche le regioni tutte eh cioè nel senso non nessuno è stato esente per cui se scusiamo tra virgolette niente a scusare il governo scusiamo anche le regioni parlo dico le regioni così sto dicendo le regioni no cioè non è che uno ognuno ha le sue responsabilità comunque al di là di questo il nostro voto sarà favorevole grazie grazie consigliere Molteni mettiamo in votazione la delibera al punto tre favorevoli allora quindici contrari astenuti sei astenuti da remoto consigliera da perego astenuta grazie presidente allora sono quindici favorevoli sei più uno da remoto sette astenuti 22 votanti il passiamo all'immediata esegibilità alla votazione favorevoli quindici quindici contrari astenuti astenuti sei astenuti da remoto consigliera perego astenuta grazie presidente prego stessa votazione di prima quindici favorevoli sei più uno da remoto astenuti quindi la delibera è approvata passiamo al verbale di seduta al punto 4 approvazione dei verbali delle sedute consiglieri dei giorni 10 12 2020 ore 20 22 12 2020 ora 20 la delibera esecutiva favorevoli 15 15 contrari astenuti 3 3 6 da remoto consigliera perego astenuta quindi sono 7 a lei ora 15 favorevoli 6 più uno da remoto 7 astenuti approvata passiamo alla mozione al punto 5 mozione presentata dalla maggioranza dal consigliere Vincenzo Recupero protocollo generale 438 del 4 gennaio 2021 ad oggetto targa alla memoria del dottor Roberto Trezzi all'esterno del civico 178 di Via Monte San Michele consigliere Recupero facoltà di parola prego la ringrazio Presidente buonasera a tutti e gentili colleghi buonasera Presidente gentili colleghi come concordato nella conferenza dei capigruppe del 18 gennaio 2021 al fine di poter è una premessa che sto facendo al fine di poter condividere la mozione in oggetto con tutti i consiglieri sia di maggioranza sia di opposizione tra una lista di giovani sestesi che ho interpellato ma non ho mai ricevuto una risposta ho proposto e ottenuto la firma di tutti i capigruppo e questa sera chiedo che sia messa agli atti che la mozione presentata da me in data 4 gennaio 2021 è condivisa da tutti i consiglieri ritengo questo un momento di grande importanza perché ricordo condiviso del dottor Trezzi rimanga nelle menti e nei cuori di tutti noi grazie Presidente per aver compreso e avermi aiutato in questa operazione di unione di intenti finalizzati a qualche cosa che va oltre l'aspetto politico ma colpisce l'aspetto sociale e il cuore di tutti noi grazie a tutti do ora la lettura della mozione quindi ci sarà un allegato alla sua presentazione che lei darà poi al segretario io credo che il ringraziamento vada esteso a tutti i consiglieri anche dopo va benissimo ringrazio grazie mille allora do la lettura della mozione talga la memoria del dottor Roberto Trezzi all'esterno del civico 178 di via Monte San Michele premesso che il dottor Roberto Trezzi scomparso il 23 dicembre 2020 dopo aver contratto il covid-19 sia esistinto nella sua vita e carriera professionale dai medici in vicina generale per la grande passione umanità e attenzione ai bisogni dei cittadini che è stato un punto di riferimento per l'Ioni Vittoria stimato a tutti i suoi assistiti anche per come aveva garantito loro assistenza durante la pandemia covid-19 in prima linea nonostante i rischi che è stato medico molto stupoloso preparato disponibile gentile e coraggioso sempre pronto ad ascoltare e offrire sostegno a tutti che ha sempre considerato il suo lavoro come una vocazione e lo ha sempre svolto senza mai tirarsi indietro anche nei momenti più complicati che la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto in città sia tra i pazienti che tra i colleghi medici considerato che dalla data della morte del dottor Trezzi non sono trascorsi anni sufficienti affinché si possa essere intitolata una via o un giardino pubblico ma è possibile posizionare una targa commemorativa in sua memoria propongo scusate chiedo scusa proponiamo di apporre una targa commemorativa all'esterno del civico 178 via Monte San Michele dove è ubicato lo studio medico di cui il dottor Trezzi prestava servizio scrivendo sulla targa alla memoria del dottor Trezzi medico di famiglia grazie a tutti grazie a lei consigliere recupero apro la discussione sulla mozione consigliere Vino prego grazie grazie presidente ma omaggiare al dottor Trezzi è doveroso da parte della nostra città una città che concretamente lui amava la sentiva sua e ha servito come e con molta professionalità da quello che era un professionista impeccabile amato e stimato da centinaia per non dire di migliaia di cittadini sestesi lo hanno dimostrato anche quella raccolta firma che si è appena alzata nel ricordo del dottor Trezzi il dottor Trezzi non possiamo dimenticare che è stato anche se vogliamo in passato collaboratore del comune perché nella metà degli anni ottanta ha collaborato con l'allora assessorato allo sport come consulente medico per l'avviamento dei giovani e la pratica sportiva insomma una personalità di grandissimo livello umano ma soprattutto professionale la scelta di mettere in discussione subito la mozione ha sicuramente un grandissimo e un suo valore resta però tuttavia l'amarezza di trovarsi di fronte all'ennesimo atteggiamento da parte della presidenza del consiglio che vanifica secondo noi tutto il valore di questa scelta con la totale discriminazione verso mozioni presentate dalla minoranza che giacciono da mesi qualcuna forse anche da anni senza trovare spazio nella discussione consigliare per il nostro una scelta un po' forse usare una parola forte vergognosa che umilia la democrazia e che nasce da irresponsabilità e discriminazione politica noi della lista civica dei giovani sestesi chiaramente daremo un voto convintamente favorevole alla scelta di dedicare la targa al dottor Trezzi però allo stesso tempo condanniamo questa presidenza del consiglio per questa incapacità e discriminazione politica ripeto incapacità e discriminazione politica nulla di di altro grazie prego consigliere Leo ha chiesto la parola facoltà grazie presidente come non essere d'accordo con questa mozione abbiamo appena sentito il consigliere vino molti di noi conoscevano direttamente il dottor Trezzi non era il mio dottore però aveva l'ambulatorio sotto casa mia vedevo le persone che andavano da lui soprattutto persone anziane e lui aveva comunque una buona parola per tutti lui era la persona che comunque era sempre in giro andava sempre a fare le visite a casa non si sottraeva mai dalla dalla sua dalla sua professionalità dal suo lavoro e con grandissima dote umana quindi ovviamente siamo siamo d'accordissimo su questa mozione voteremo favorevolmente questa mozione non si vuole speculare una mozione per fare della polemica politica specialmente su una mozione che parla del dottor Trezzi però diciamo come non essere d'accordo su quanto ha detto il consigliere vino su altre mozioni che magari giacciono ma soprattutto mi riferisco a quella presentata da noi il Partito Democratico proprio ieri che pensavamo potesse essere collegata visto l'argomento dottor Trezzi e che non è stata portata in aula questa sera una mozione che è nata dalla necessità di chiedere all'amministrazione di intervenire per un problema che si è creato purtroppo con la morte del dottor Trezzi della mancanza del medico di base che fa sì che addirittura dei 1500 pazienti ce ne sono più della metà che sono anziani e vi devo dire la verità mi chiamano anche in orari di lavoro disperati perché non sanno cosa fare non hanno alcuni non hanno neanche la macchina per andare a fare le visite mediche o farsi fare le ricette ecco quindi la nostra mozione anche se non è stata presentata questa sera non è stata accettata di essere portata questa sera solleva questo problema invito il sindaco a farsi carico di questo problema perché non è una questione di speculazione politica ma è una necessità di cittadini bisognosi soprattutto anziani quindi anche se non è stata presentata questa sera io sollecito l'amministrazione a fare qualcosa perché i cittadini si aspettano che ne facciamo qualcosa di avere un dottore e un ambulatorio in zona in zona grazie sono altri interventi consigliera Iosa prego grazie presidente ma a onor del vero la decisione di discutere questa mozione in consiglio comunale è stata presa dalla capigruppo nell'ultimo incontro che abbiamo fatto e la mozione è stata presentata dal consigliere recupero c'è stata un'attenta discussione durante la capogruppo e i capigruppo naturalmente quelli presenti hanno scelto di portare la mozione all'ordine del giorno di questa sera è venuto fuori durante la capigruppo l'argomento sia delle interrogazioni che delle mozioni e ci siamo chiaramente confrontati tra capigruppo di maggioranza e capigruppo di opposizione dicendoci che sarà sicuramente premura dell'ufficio di presidenza vedere di calendarizzare scusate un consiglio comunale ad hoc per la discussione delle mozioni quindi non c'è stata nessuna prepotenza nella presentazione della mozione di questa sera è stata una decisione collegiale ripeto dei capigruppo presenti alla riunione di portare la mozione in consiglio questa sera quindi che che venga detto che la presidenza è prepotente o il termine ancora più ingiurioso che è stato detto prima mi sembra veramente fuori luogo perché ripeto la decisione è stata presa in maniera collegiale e la vicepresidente pastorino può tranquillamente confermare quello che sto dicendo all'interno della capigruppo quindi o i capigruppo hanno cambiato idea o altrimenti quello che stiamo facendo stasera è quello che è stato deciso in quella data e in quella sede ci sono altri interventi non ci sono altri grazie presidente prego consigliere Atanasio ho chiesto la parola grazie grazie presidente mi collego all'intervento della della consigliera aiosa che nella capogruppo ci sono state ci sono state alcune incongruenze con con gli altri capogruppi della 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 minoranza e c'è stata anche una una domanda non mi ricordo chi è stato ha detto ma come mai solo tre si magari magari possiamo fare qualcosa anche per tutti anche anche per tutti i deceduti di covid beh io sono stato io sono il presidente della consulta del decoro urbano e l'undici e l'undici gennaio ho protocollato una proposta una proposta che dice abbiamo proposto al sindaco e all'aspettabile giunta comunale l'installazione di un cippo commemorativo per ricordare le vittime del covid del covid diciannove con l'inaugurazione il ventitré febbraio duemila e ventuno all'interno dell'area verde antistante il palazzo comunale il desiderio della consulta del e del presidente è quella di ricordare i cittadini sestesi deceduto la causa del covid diciannove esattamente a un anno dal primo lockdown risposta del sindaco che è esaustiva che dice egregio presidente attanasio nell'apprezzare la sensibilità della consulta sul tema si comunica che l'amministrazione comunale ha già attivato tutte le procedure che porteranno alla istituzione di un vero e proprio monumento cittadino con relativa targa ovviamente sarà nostra cura informarvi del seguito e gli sviluppi del progetto io fiducia e aspettiamo questo evento e in questa delibera è stato che il presidente del consiglio ricupero scusi il vice presidente del consiglio ricupero di sua iniziativa ha presentato questa mozione e l'abbiamo condivisa tutta la maggioranza giustamente perché eh eh trovere perché anche il perché il presidente il dottor Trezzi eh è morto insomma anche lui di covid diciannove si è distinto della sua vita e carriera professionale come ha detto il consigliere ricupero eh da noi tutti è stata apprezzata eh come anche eh spero da tutti quelli che lo che lo conoscono perché è stata è stata veramente una persona gentile una persona professionale e sempre con un con una parola di conforto eh per tutti i suoi i suoi insomma pazienti eh e grazie grazie consigliere ricupero di questa di questa mozione grazie ci sono altri interventi chiudo la discussione mi permetto di prendere un attimo la parola consigliere vino perché se mi ascolta le sarei grato fare delle affermazioni ho capito che mi ascolta con le orecchie però io quando lei parla la guardo magari per educazione nei miei confronti se le fa piacere o se è possibile non c'è nessun problema siccome è stata rivolta più a volte al sindaco che guardava di là io invece guardo lei e avrei piacere di guardare io comprendo tutto e ascolto tutto però dire le parole che ha detto lei sono anche offensive certo se le vado a rileggere o se le vado a riascoltare intanto lei non era presente e soprattutto i fatti non sono questi nell'ufficio di presidenza non erano previste non sono state previste la discussione di mozione in quel momento il consigliere ricupero ha chiesto se c'era la possibilità di poter presentare una mozione nel primo consiglio comunale in quell'ambito io ho fatto presente che non era possibile anche se l'articolo 91 del regolamento del consiglio comunale prevede eventualmente questa possibilità ma rifacendomi sempre ai consigli precedenti la cosa non la ritenevo molto consona è stato il consigliere a sollecitare proprio la natura di questa mozione che era una natura sociale vicino a quello che stiamo vivendo in questo momento momento difficile per tutti noi e d'accordo con e la vicepresidente Pastorino abbiamo pensato di metterla in discussione alla Capigruppo cercando poi di ottenere un voto all'unanimità per poter portare oggi questa mozione a distanza di qualche giorno così abbiamo un quadro molto preciso proprio per evitare che questa mozione potesse essere strumentalizzata non dalla opposizione ma dalla maggioranza stessa contro la posizione ho fatto mio l'articolo 91,4 se non sbaglio poi lo verifichiamo bene e ho detto ai consiglieri esponete esprimete un vostro giudizio in merito alla possibilità di discutere questa mozione e poi qualora non ci fosse stata l'unanimità o il desiderio da parte di tutti mi sarei riservato come da regolamento assumendomene io la responsabilità di prendere una decisione cosa che non si è verificata e con grande piacere devo dire c'è stata l'unione da parte di tutti i consiglieri affermare adesso davanti a questa cosa che vi ho appena spiegato che il presidente quindi l'ufficio di presidenza ha atteggiamenti non voglio neanche non mi ricordo neanche ma se rilegge quello che ha detto lo vedrà da solo mi sembra veramente poco corretto detto ciò ognuno poi si assume le responsabilità di quello che dice indipendentemente da tutto bene esaurite la discussione scusi presidente prego mi ha chiamato in causa potrei rispondere certo sinceramente io ho risposto a lei che mi ha chiamato in causa non credo che ci sia da aggiungere se mi è consentito se no non c'è problema però guardi abbiamo un orario prego prego l'ascolto molto volentieri perfetto non riuscirà a portarmi alla polemica per una per una discussione che reputo e che reputiamo favorevole da questo punto di vista abbiamo contestato il metodo a prescindere che sia stata poi in quel momento avvallata da parte di tutti quanti detto questo ripeto non mi porta alla discussione su un tema come questo che reputo doveroso per un cittadino sestese che si è tanto prodigato per per il bene della nostra città quindi mi spiace non raccolgo la sua provocazione da questo punto di vista e la sua spiegazione la sua spiegazione in merito in merito a come sono andati i fatti era fuori luogo per quanto mi riguarda non era non era neanche in discussione il fatto della mozione assolutamente ma guardi che io non ho mica parlato del contenuto della mozione sa io ho parlato della procedura vorrebbe dire forse come sono stati esattamente si sono svolti i fatti in quanto lei mi ha definito e ha definito tutta la presidenza dittatoriale non ricordo neanche bene la parola perché guardi veramente a volte rimango un po' così un po' scioccato quindi io non discusso la delibera o i contenuti di questa mozione scusi ho semplicemente specificato come si sono svolti i fatti e non credo che questa presidenza abbia forzato forzatamente ho voluto forzatamente discutere questa mozione ha voluto semplicemente condividere un momento di questo consiglio comunale che si donava a fare tutto questo detto questo passiamo alla dichiarazione di voto io ritengo comunque mi sento molto soddisfatto e ringrazio tutti i consiglieri per questa vostra scelta lista civica giovani sestesi consigliere vino prego discriminazione politica era questo il termine che ho usato detto questo non si può assolutamente che votare favorevolmente a questa a questa proposta da parte della lista del rappresentante ricupero assolutamente quindi la lista civica dei giovani sestesi rafforza questa proposta dicendo sì favorevolmente a tutto questo grazie sesto al primo posto consigliera floridi grazie presidente anche il mio voto è favorevole come già espresso alla capigruppo con la speranza poi che anche tutte le altre emozioni come avevo già detto poi possano essere discusse il prima possibile però ovviamente su questa assolutamente favorevole da parte mia di sesto al primo posto movimento 5 stelle consigliere galante grazie presidente il movimento 5 stelle non può che essere favorevole considerato scusi aggiungo un secondo considerato l'alto livello l'alto valore morale l'altro contributo civico fornito da sempre specialmente in periodo epidemico dal dottor Trezzi Roberto alla città di San Giovanni in particolare ai suoi numerosi pazienti e l'alta considerazione diffusa presso la popolazione sestese il movimento 5 stelle è pienamente d'accordo nel firmare la mozione sottoscritta e depositata dal consigliere di recupero per rendere oneri e lustro alla gesta del dottor Trezzi a futura memoria della popolazione di questa città auspichiamo come d'accordi che venga aggiornato il portale del cittadino in base alla variazione oggi apportata la suddetta mozione grazie lista di Stefano Sindaco consigliere di recupero grazie presidente concordo naturalmente con il consigliere Galante che naturalmente poi verrà messa anche sul portale del comune che tutti stasera all'unanimità abbiamo naturalmente votato favorevole e io faccio una piccola premessa avranno sempre abituato e quando qualcuno mi fa una domanda io rispondo perché rispondere è cortesia il voto della lista di Stefano è favorevole grazie identità civica consigliera Iosa grazie presidente il nostro voto è favorevole Lega Nord consigliere Pasquinelli grazie presidente favorevoli Forza Italia consigliera Rosa grazie presidente favorevole partito democratico consigliera Perego prego grazie presidente ma allora solo una innanzitutto un ringraziamento perché si è scelto di ritirare la mozione presentata solo dalla maggioranza e di ripresentarne una dando la possibilità a tutti i gruppi consigliari di sottoscriverle credo che questo sia comunque un gesto che di unità del consiglio comunale rispetto a una figura comunque importante per la nostra città in una situazione davvero drammatica mi permetto solo di dire alla consigliera Iosa che non c'è nessun cambio di posizione rispetto a quanto abbiamo concordato nella capigruppo io ero presente dopo un lungo confronto siamo arrivati al punto di caduta che la delibera si sarebbe discussa oggi il consigliere Leo nel suo intervento faceva riferimento al fatto che forse è stata un'occasione un po' sprecata il fatto che si potesse affrontare in generale un tema importante per quel quartiere che subisce più degli altri più della città la perdita del dottor Tressi che essendo collegate le due mozioni questa sera l'altra avrebbe potuto andare in discussione ma non c'era nessun arretramento rispetto alla posizione concordata alla capigruppo concludo ovviamente il voto sarà favorevole del partito democratico chiedendo se fosse possibile diciamo anche per correttezza formale emendare il titolo della delibera perché il titolo della delibera è registrato così come mozione presentata dalla maggioranza ma nel momento in cui è stata depositata la mozione firmata anche dal movimento 5 stelle dal partito democratico e da sesto al primo posto non può essere registrata come mozione presentata dalla maggioranza quindi chiedo se è possibile emendare il titolo della delibera perché rischia di essere ovviamente un vizio di forma dal momento che non corrisponde poi alle firme in calcio alla delibera grazie mille allora amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente faccio fatica anch'io un attimino a capire dove io ho fatto già nella capigruppo ho fatto le raccomandazioni della consigliera Floridi sul fatto che dice richiamiamo l'attenzione a quello che magari c'è ancora in giacenza eccetera eccetera però non riesco a capire dove si possa dire che si è mancato di democraticità di percorso corretto eccetera è stato portato nell'HP gruppo è l'organo deputato se vogliamo chiamiamolo organo chiamiamolo momento chiamiamolo quello che vogliamo per politico certo per vedere le cose insieme per cui faccio un po' fatica capire le accuse mosse di poca democraticità di discriminatorio eccetera comunque ovviamente il nostro voto sarà favorevole grazie grazie a lei consigliere Molteni consigliera Perego se mi sente il segretario le dà una precisazione a quanto lei ha richiesto che anch'io condivido in pieno ma adesso gliela spiegherà meglio prego allora consigliera Perego noi nella adottare quello che voi avete deliberato che questo consesso ha deliberato non può che registrare nell'oggetto non una mozione che riporta una parte dei proponenti ma deve essere ovviamente rivolta e riferita all'intero consesso del resto se non ho inteso male il consigliere proponente originario chiamiamolo così ha indicato che avrebbe integrato alla luce dell'adesione di tutti i capigruppo prima e del voto favorevole dell'aula che immagino anzi immagino sarà all'unanimità e quindi di per sé per me è valevole nella modifica dell'oggetto della mozione non c'è altro da aggiungere grazie consigliere grazie segretario mettiamo in votazione la mozione favorevoli prego non c'è l'immediato consigliere da remoto favorevole unanimità dei votanti credo che è stata è accolta pienamente bene grazie no un momento solo colleghi perché c'era il consigliere galante che mi aveva chiesto all'inizio del consiglio pochi minuti per una dichiarazione una precisazione non ho capito bene prima quando mi ha rivolto gli ho chiesto gli ho detto di avere pazienza fino alla termine del consiglio prego consigliere galante grazie presidente due minuti ringrazio anche in anticipo voi consiglieri vorrei devolvere il mio gettone di presenza per le famiglie costrette a pagare le spese processuali dopo l'ultima sentenza che ha colto il responsabile Breda nel processo sull'amianto a Sesto San Giovanni le morte d'amianto non sono non sono colpevoli sono stati assolti sono stati assolti in appello i sette manager della Breda termomeccanica al saldo accusati di non aver tutelato i lavoratori degli stabilimenti delle fibre killer dell'amianto si tratta del caso di 12 operai che dagli anni 70 al 1985 sono stati esposti all'amianto e successivamente sono deceduti per malattie polmonari causate proprio dall'esposizione ai materiali sul luogo di lavoro a essere condannate sono state le parti civili l'associazione comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro l'associazione medicina democratica e l'associazione italiana esposti all'amianto che dovranno pagare le spese processuali una sentenza ingiusta che vuol tacere le associazioni comitati e lavoratori stessi che tutti i giorni si battono alla lotta contro le morti sul lavoro e per la sicurezza nei luoghi di lavoro confido nel fatto che anche gli altri consiglieri vogliono aderire a questa iniziativa grazie la ringrazio quindi lei dichiara di voler dare il suo oggettone di presenza di questo a quanto ha già affermato va bene la ringrazio prendiamo atto sono le 23 e 05 presidente i consiglieri del partito mi scusi sono la consigliera Pirego da remoto prego prego consigliere così se la interrompo i consiglieri del partito democratico accolgono la proposta del consigliere galante appunto e si uniscono come gruppo alla proposta formulata dal movimento 5 stelle chiedo scusa allora parlavo prima con il segretario generale se è un'azione singola di un esponente ha un senso se invece deve essere poi condivisa può essere condivisa prego le do la parola a lei mi sembra evidente suggerire che se c'è una adesione che supera il singolo consigliere sarebbe opportuno che tutto sia oggetto di una mozione che va nella direzione di condividere un argomento un oggetto perché con riferimento alle singole alle singole posizioni io ne prendo atto lo prendo come appunto ma mi sembra di aver inteso che forse c'è una partecipazione maggiore se non ho capito male Presidente propongo questo quindi la richiesta del consigliere galante chiaramente viene accettata la richiesta del partito democratico ritengo la ritengo legittima vorrà dire che se altri consiglieri si sentiranno visto che si parla di una situazione anche di donazione ad effetto sociale se riterranno opportuno aderiranno alla domanda se no dovremmo rimandarlo poi alla prima possibilità di discussione della mozione io credo che ogni consigliere ogni consigliere comunale in aula può presentare per iscritto una due righe all'ufficio affari istituzionali dove dice con la data del consiglio comunale svolto e svolto il sitale dei tali e volvo il mio gettone di presenza a quanto espresso dal consigliere va bene d'accordo siamo d'accordo galante sì diciamo che noi volendo possiamo anche depositare una mozione no ma io credo che si possa benissimo fare così è una è un'emoluzione che non rinuncia bene sono le 23.08 chiudo il consiglio comunale ringrazio tutti per la presenza buonasera a tutti